la spagna mi meraviglia sempre di più guardate qua zona descanso para mascotas ora non ci vado dentro perché vado di fretta poi per curiosità vado a vedere palma di maillorca allora come promesso volevo fare il video del posto qui zona descanso para mascotas allora l'ho detto in spagnolo ma insomma in italiano è la zona riposo per gli animali cioè zona pipì esattamente allora si sente odore di urina questo è logico allora ci sono i sacchettini per la pipì per raccogliere la cacchina che hanno messo un bel con immagini questa è la sabbia ci sono delle pipì c'è chi ha fatto anche fuori non è grave se sono dei maschietti è normale che non c'è fanno che ti alzano la gamba e forse non hanno l'abitudine di fare nella sabbia i miei per esempio nell'erba e qui c'è mi sembra per bere ecco qua questa è fontanina per bene ora non sto lì a schiacciare il bottone per vedere se funziona puntare agli escrementi forse sì ma non ho idea ecco qua come promesso dovevo vedere la zona ecco forse qui dentro si mettono gli escrementi bene boh puzza un po eh lo dico già